Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ne abbiamo parlato molto prima e dopo l'uscita di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Gli abbiamo dato un'importanza forse esagerata e ne abbiamo frainteso totalmente il nome. Ma alla fine, chi diavolo è questo Marshadow? Oggi ci troviamo qui per svelare finalmente questo arcano e per provare infine con le nuove informazioni ad affidare a questo Pokémon un ipotetico ruolo all'interno del futuro Pokémon Stars. Iniziamo questa breve teoria ricordando il tipo di questo Pokémon, un tipo che lasciò molti di stucco, ossia Spettrolotta. Una combinazione che contraddisse totalmente chi ipotizzava un Pokémon completamente diverso. Abbiamo visto una chimera a due teste, un Pokémon di tipo acqua insomma. Alla fine ci siamo ritrovati con un fantasmino all'apparenza innocuo. Ma è proprio dei tipi che questo Pokémon anche possiamo risalire alla sua origine. Spettrolotta. Ora, se pensate al tipo Spettro, non potete far altro che immaginare un fantasma, uno spirito, un'entità paranormale, insomma. Un essere di questo genere. Mentre la sola parola lotta fa subito venire in mente qualcosa legato alle arti marziali. Presumibilmente un lottatore. Il risultato più attendibile sarebbe quello di un lottatore fantasma, giusto? Adesso andiamo a prendere il nome di questo Pokémon. Mars Shadow. Se la parola Shadow riconduce facilmente all'oscurità e agli spettri, Mars non è altro che la traduzione inglese di Marte, che non è in questo caso pianeta, bensì il dio romano della guerra e, per associazione, della lotta. Ma non finisce qui. Dal nome Mars deriva la parola italiana Marcia, ossia una sorta di parata militare o comunque un insieme di soldati che procedono imperterriti nella loro compostezza. La traduzione inglese della parola Marcia è March, mentre colui che ha intento a marciare, ossia il marciatore, diventa Marcher. Quindi, Marcher è una parola chiave. Manca quella derivabile da Shadow. Ora, se io vi chiedessi di identificare un periodo della giornata relazionato con l'oscurità, ossia Shadow diciamo, la vostra risposta sarebbe di sicuro la notte, in inglese night. Ed ecco a voi il marciatore della notte, il Night Marcher. Già, Mars Shadow è un marciatore della notte. Ora sorgerà però una domanda spontanea. Cosa vuol dire ciò? Bene, come molto spesso abbiamo fatto precedentemente, andiamo a prendere la mitologia hawaiana per sciogliere il nostro dubbio. Nella tradizione di questa regione, gli spiriti dei combattenti morti durante le notti di Kane, Ku, Canaloa e Lono si risvegliano e marciano a suoni tamburi sui luoghi di battaglio ormai deserti o presso i luoghi sacri. Fanno ciò prima dell'alba e spesso accolgono con sé i parenti deceduti nel periodo precedente. Se avete fatto attenzione alle mie parole, avrete notato che questi marciatori della notte non sono altro che lottatori fantasma, come detto per l'appunto di inizio video. Ergo ragazzi, il cerchio si chiude. Abbiamo svelato l'origine di questo Pokémon, spiegato il suo tipo e intuito i suoi comportamenti. Ora tenteremo di dargli un ruolo all'interno di Pokémon Stars. Dunque, Kane, Ku, Canaloa e Lono sono quattro divinità hawaiane legate strettamente tra di loro, che potremmo far tranquillamente risalire ai quattro Tapu della regione di Alola. Ora, essendo i Night Marcher evocabili solo durante le notti di queste quattro divinità, come potrebbe essere trasposta questa cosa in un gioco Pokémon? Può essere che questo nuovo Pokémon, solo di recente annunciato, possa essere ottenuto dopo aver catturato i quattro Tapu in un particolare luogo ad esempio? Oppure, ancora più azzardata come ipotesi, potrebbe essere il Pokémon che lega questi Pokémon leggendari? Insomma, Marchado può essere una sorta di chiave di volta per il prossimo gioco Pokémon? E voi? Credete che questo Pokémon possa essere importante ai fini di una trama più ampia? Oppure lo vedete meglio come una sorta di comparsa secondaria? Fatemelo sapere ragazzi qui sotto con un commento. Prima di concludere questo video, volevo lanciarvi una sorta di sfida nei commenti, Ossia, con le informazioni che ho riferito diciamo in questo video, vi sfido a scrivere delle descrizioni del Pokédex per Marchado E se la cosa andrà bene e vedo che ce ne sono tante di belle, farò un video a riguardo in cui leggerò magari le migliori Spero che questa idea vi sia piaciuta e spero che in generale il video vi sia piaciuto Se è così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale E premette la campanella in alto a destra per ricevere i feed che YouTube manda Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video! Grazie a tutti!